Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Vi informo sulle notizie che ricevo e che posso comunicare. Iniziamo analizzando la settimana dove ho pubblicato 3 video e quello che io vi consiglio è senz'altro tra tutti e tre i giochi su tutti For The King 2. Credo che For The King 2 ricalchi proprio esattamente quello che un gioco co-op debba essere. Se amate i giochi da tavolo, i giochi di ruolo, la possibilità di passarsi, equipaggiamenti, tiri di dado, è sicuramente un gioco che fa per voi e, data la sua struttura a capitoli, potrebbe essere comunque un gioco molto molto longevo. Se la giocava un pochino con Dungeons 4, ma qui lì dobbiamo provare ancora la modalità cooperativa. Quindi io tra i giochi di questo, a parte Empty Shell che è molto molto particolare, anche quello non è per tutti, ma io mi sento di consigliarvi in pieno valutate For The King 2. Per quanto riguarda poi gli aggiornamenti riguardo i giochi, giochi che abbiamo visto sul canale, giochi indie in generale, l'aggiornamento 0.9.1 di Fartest Frontier è arrivato da poco tempo. Che cosa aggiunge? Aggiunge la possibilità di affrontare degli accampamenti nemici, di avere delle cripte, quindi rendere secolare la storia del nostro villaggio, seppellendoli le personalità storiche più importanti del nostro villaggio e anche la possibilità di gestire meglio gli storage, gli inventari, quindi scegliere quali risorse, in quali quantità, quindi riusciremo a pianificare meglio tutti i nostri inventari, tutti i nostri depositi. E questo è un aggiornamento molto interessante, 0.9.1 stiamo arrivando ormai a gioco ultimato da questi sviluppatori che hanno fatto anche Green Dawn, che secondo me è un gioco migliore per quanto riguarda gli Aken Slash, a Diablo 3 e 4, quello su tutta la linea e ve lo confermo. Eventualmente se avete qualche domanda o volete altri gameplay di Green Dawn, non fate altro che scriverlo sotto nei commenti. Altro aggiornamento di un gioco molto particolare, My Garage, gioco che se siete amanti di Car Mechanic Simulator sappiate che nelle mie preferenze è decisamente migliore My Garage. Perché? Perché vi consente di costruire un motore da zero, sbagliando, non mettete l'olio, bruciate il motore, non avvitate le viti, spanate il motore, insomma, ci sono tante possibilità. Questo recente aggiornamento ha stravolto il gioco perché ha dato la possibilità di recarsi in città, comprare i materiali e costruire l'officina dei nostri sogni, costruire gli edifici in generale. Quindi è un gioco che è in continuo, divenire in continuo aggiornamento, aggiungendo macchine, parti di motore, modifiche, hanno sistemato il multiplayer, ora funziona anche in survival, quindi potete giocare con i vostri amici, costruendo la vostra auto, riparando le auto con le varie quest, ed è un gioco, secondo me, unico e decisamente migliore di Car Mechanic Simulator. E in conclusione, per gli amanti delle traduzioni, sappiate che Teardown è ora localizzato in italiano. Dal mio punto di vista non se ne sentiva la mancanza della lingua italiana, perché comunque era abbastanza immediato, però è uno di quei giochi in cui, uno dei pochissimi in cui dico, ci fosse il multiplayer, il cooperativo sarebbe fighissimo, perché è un gioco veramente molto molto divertente, basato sulla fisica, basato sul voxel, quindi dei cubetti un po' alla Minecraft, dove dobbiamo pianificare il nostro percorso per completare le varie missioni nei tempi limite, e quindi evitando di far scattare gli allarmi, demolendo tutto, usando un'infinità di mezzi. Gioco veramente molto interessante, e le recensioni parlano appunto, confermando quello che io ho detto. Questo è stato tradotto, quindi non costa poco, costa 30 euro, li vale, secondo me, perché comunque è un gioco longevo e molto vario. Qui si conclude il primissimo episodio dopo l'episodio zero di Indice, ovviamente parola a voi, ditemi se ho dimenticato qualcosa, se è successo qualcos'altro in questa settimana, se avete qualche segnalazione a fare, semplicemente un commento su quanto avete visto. Io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando al video del lunedì. Alla prossima e ciao ciao!